Siamo qui con Marco Lissandrini, capitano della prima squadra della Palamano-Rovereto-Vallagarina. Come è andata questa prima partita di campionato di Serie A2 maschile? Nel primo tempo molto bene, la squadra ha finito su 10-10 pari, si è vista una squadra molto unita, molto forte, sia in difesa che in attacco. La stessa cosa per i primi 10 minuti del secondo tempo e gli ultimi 20 invece purtroppo nebbia totale, si è spenta la squadra, si è spenta la testa di tutti e è andato un po' tutto a rotoloni fino alla fine. Il futuro che cosa pensate? Che vada tutto come primo tempo sinceramente, se riusciamo a tenere una partita del genere come abbiamo fatto i primi 30 minuti potrebbe andare tutto molto bene e potremmo fare anche dei buoni risultati. Perfetto, ti ringrazio, alla prossima.